Siamo tornati e vogliamo cambiare decisamente pagina, perché vogliamo ricordare che ieri si sono svolti i funerali delle prime due vittime della tragedia alla centrale idroelettrica di Suviana del 9 aprile scorso, quella che è stata definita una nuova ThyssenKrupp e oggi noi ne parliamo con il giornalista Pino Ciociola, buongiorno, benvenuto, e il regista Mimmo Callopresti, buongiorno, che proprio alla strage della ThyssenKrupp ha dedicato un film. Vogliamo però iniziare proprio da quello che è accaduto lo scorso 9 aprile, Pino vogliamo ricordare cosa è successo? Credo che in realtà basti fare sintesi perché immagino che ormai lo sappiano tutti, tragicamente, c'è un'esplosione, si ipotizza che possa essere stato l'alternatore, salto negli impianti di raffreddamento, c'è l'esplosione, c'è un allagamento enorme e moriranno sette persone. Si sta finendo di svuotare perché è evidente che prima verranno sentiti i testimoni, poi bisognerà fare i sopralluoghi, i tecnici dovranno fare i sopralluoghi, quello sarà un passaggio fondamentale. È possibile, non probabile, è possibile, siccome quel giorno c'era un collaudo di alcune turbine, quando si fanno i collaudi c'è anche il cosiddetto stress test, cioè si prova spingendo al massimo. È possibile, non è probabile, che lo stress test abbia causato problemi. Pare che i due tecnici tra i morti avessero anche fiutato qualcosa e avessero provato a fare qualcosa, ma evidentemente non c'è stato niente da fare. E piangiamo gli ultimi sette morti, perché ce ne sono tre al giorno in questo Paese sul lavoro. Sono dati che abbiamo sotto gli occhi e che a volte vogliamo non vedere, ma a volte gridano come nei casi di queste tragedie. A volte richiamano un eco, l'ha detto Grazia prima, una nuova ThyssenKrupp, Mimmo, richiamano l'eco di altre tragedie che sono avvenute. Sì, io quando ho fatto quel documentario sulla ThyssenKrupp, mi sembrava che subito dopo c'era stato un grande movimento di politici, leggi, cambiamenti, nel tentativo di andare verso veramente a quest'idea dello zero, zero morti sul lavoro, secondo me è una possibilità reale, no? Forse non ci arriveremo mai, è utopistico, però invece da lì in poi sono aumentati. Cioè la cosa clamorosa è che non basta le leggi, non basta l'opinione pubblica che improvvisamente si risveglia, eccetera, così. Ci vuole qualcosa di molto più profondo, no? Cioè le persone che vanno a lavorare devono poter tornare a casa salve come sono entrate. questo, diciamo, è il meccanismo che deve funzionare. Purtroppo non funziona mai e questo è grave, vuol dire che c'è qualcosa di profondo da cambiare nel meccanismo del lavoro e secondo me non è un problema di leggi, leggi che sono state interessanti, importanti, eccetera, ma proprio del rapporto tra la vita delle persone e il lavoro. Insomma, non si può morire di lavoro, ecco, questo è... E invece l'ultima tragedia ti dice che si muore di lavoro. Quando hai sentito in tv di quest'ultima tragedia, penso che subito il pensiero è andato anche alla tragedia di cui hai parlato. Della Tissen. Della Tissen. Cosa hai provato? Ma io tutti i giorni sto attento a questa cosa sulle morti del lavoro, da quando ho fatto quel lavoro sulla Tissen mi è rimasto dentro, mi sono rimasto dentro quei ragazzi che sono salvati e le famiglie di quelli che sono morti, no? È stato un momento veramente tragico per me andare in queste case, sentire parlare dei loro cari, eccetera, no? Di ragazzi così, come ero io allora, insomma, un ragazzo così che passava la sua vita tra il lavoro, il divertimento, la famiglia, queste cose qua. E quindi sto sempre attento a questa cosa delle morti del lavoro perché, ripeto, per me non ha senso morire di lavoro. Non ha veramente senso. Quindi ho una grande tristezza tutte le volte che sento queste notizie. E questa notizia è triste anche, no? Perché sembrava il posto più sicuro del mondo, poi improvvisamente ci lascia così tante persone la vita là dentro. Allora vuol dire che non si è fatta abbastanza attenzione alla vita delle persone. Ecco, io solo perché la vita degli individui venga tutelata in tutte le sue forme e soprattutto quando lavora. Il tuo lavoro si inserisce proprio in questo solco. Abbiamo parlato, abbiamo nominato il tuo lavoro, la fabbrica dei tedeschi. Vediamoli insieme un estratto. Che bello che sei. L'attore dovresti fare. Adesso che i tedeschi chiudono la fabbrica, ti prendi un pochino di tempo anche per te. Così torni in palestra. E poi ti trovi un altro lavoro. Non ne posso più di sentirti dire che odi le fabbriche. Lo sai che tutte le volte che vado dal parrucchiere guardo le foto degli attori sui giornali spiccicate adesso. Anch'io da giovane volevo fare la cantante. Su. Svegliati ora. Sono le ultime notti che fai. Svegliati. La fabbrica dei tedeschi è del 2008. Sono passati 16 anni Mimmo da quel 2008. Che effetto ti fa rivederlo? Adesso mi vengono i brividi perché vedevo che lì era ricostruita storie vere di famiglie che ero andato a incontrare. E niente c'è sempre dietro ogni persona che muore c'è una famiglia, ci sono dei figli, ci sono delle madri, ci sono delle mogli, ci sono delle fidanzate. Cioè, come dire, l'effetto che mi fa è che comunque quella persona lì è importante per altre persone intorno a sé. Magari è pochissimo importante invece per chi ha la fabbrica, deve fare il profitto, non sta attento in quella fabbrica lì per fare un pochino più di profitto, un pochino più di acciaio, no? Sono morti tantissimi ragazzi, giovani, in piena, come dire, nella piena giovinezza, no? E niente. Quindi, come dire, mi fa un effetto triste, sempre triste pensare che quest'idea del lavoro può diventare questo tipo di cose. Però, se andiamo a valutare come è la situazione oggi, la situazione è che si lavora di più, si lavora male, ci sono gli appalti, ci sono... Cioè, c'è una situazione che non è sotto controllo. E questa è la cosa grave, no? Cioè, non c'è una situazione sotto controllo. Sei ricattabile perché, appunto, se non lavori con quegli orari lì, poi ti licenziano, ti fanno. Cioè, tutto è troppo facile per chi comanda e per chi c'è il profitto. Quindi, come dire, mi fa tristezza una parte di pensare a quella cosa lì, ma l'altra fa anche una rabbia. Cioè, ora anche di... Basta. Di dire basta. Far rabbia e bisogna dire basta. Pino, prima lo ricordavi tu, tre morti al giorno. Tre morti al giorno, tu hai dedicato tantissimo parte, tempo del tuo lavoro, alla salute e al lavoro. Anche perché dobbiamo ricordare che quando non si muore, si ci ammala spesso. Perfetto, bravissima. Se non si muore, ci si ammala. Questo è il paese che avrebbe anche buone leggi. Solo che anche molti, anzi troppi, bla bla bla, troppi bla 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 e troppo spesso istituzionali. È un paese dove anche i bambini sanno che il ricatto che citava Mimmo adesso, io magari lo spiego un po' di più, è molto semplice. Io lavoro, magari ho figli, una moglie o un marito e magari per mille, 1200 euro al mese o mangio quella minestra, quel tipo di minestra che porta a quelle conseguenze di cui stiamo parlando, oppure salto dalla finestra. Sarebbe a dire vado a casa. E non può funzionare così. Mimmo ha parlato di rispetto della vita, la vita è sagra. E tra l'altro quella degli altri è più sagra della mia. Allora, o cambiano le cose, ma non so come e onestamente non ci credo più. Io faccio il mio mestiere da 35 anni, non ci credo più, ne ho viste centinaia di queste robe. Io potrei scrivere i pezzi da casa, perché tanto lo sappiamo. Noi abbiamo in questo paese, tutti, anche noi, perché il problema secondo me è dal basso, abbiamo, come posso dire, i vertici che meritiamo. Noi abbiamo le lacrime per un paio di giorni, a volte tre, nei casi più gravi una settimana, dopodiché dimentichiamo tutto. E se vuoi tornare a parlare di cose anche solo di un mese fa, magari ti dicono che rompi le scatole. Ed è un eufemismo questa espressione, perché in tv non si può dire come viene detta in realtà. Non può funzionare così. Perché io posso anche sforzarmi, non ci riesco, potrei sforzarmi e capire tutto. Dopodiché tutti questi grandi discorsi che io sento, no? Le lacrime, i facciamo, i faremo, bla bla bla. Adesso andiamoglieli a fare ai parenti di quelle sette persone. Andiamo. Come possiamo allora coltivare una speranza che è difficile avere in questo momento? Vuoi che ti risponda con sincerità? Non lo so. Non lo so più dopo 35 anni di questo messiere. Non lo so. Perché ho visto anche che è stato provato tutto. Ho visto gente che ha dato la vita. Il problema è decidere. C'è una parola che non insegniamo più ai nostri ragazzi, che è onore. L'onore prevede l'onessa e prevede il rispetto degli altri, oltre che di se stessi. E l'onore è da soli, non è di fronte al mondo. Allora, l'onore significa proteggere le vite degli altri, tu cura, sempre e comunque. Ha maggior ragione le vite dei miei dipendenti. Perché significa proteggere le vite dei figli, dei genitori, delle madri, dei padri. Cioè, dobbiamo decidere. Perché poi questo Paese si regge sulle menzogne. Allora, o smettiamo di dire menzogne e le cose andranno da loro, di loro. Oppure continuiamo così. E io credo che continueremo così. E vogliamo ricordare anche che giovedì 11 aprile l'arcivesco di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi, era sul palco proprio a fianco dei lavoratori che manifestavano e ricordava le parole di Papa Francesco. Ed è quello che stiamo ricordando anche oggi, che la sicurezza è parte integrante della persona. Perché siamo esseri umani e non siamo delle macchine. Certo, ma è così. È così. Ho detto bene lui, la vita è sacra. Quindi, come dire, ogni vita è sacra. E ogni vita va, come dire, protetta. E questo è, come dire, il centro di tutta la questione. Se io ho una fabbrica che produco, non so, acciaio, per produrre quell'acciaio lì, devo mettermi nell'idea che quel lavoratore lì, che sta lì, come dire, ha una vita, una vita importante, più importante del mio acciaio, più importante del mio profitto, più importante di tutto. Nell'idea, no, che ci diceva prima Pino, che il concetto proprio di rapporto tra la vita delle persone e quello che si fa, che si produce, come si vive, eccetera, è fondamentale, no? Quindi, alla fine io credo che non sia più problema di leggi, ma sia un problema morale, no? Ogni vita va a stare guardata. E quindi, costi quel che costi, mangeremo un po' meno, non lo so, costi quel che costi. In un mondo perfetto, a ragione sacrosa, in un mondo perfetto, gli ispettori non dovrebbero esserci, non dovrebbero servire. Pino, Mimmo, noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi. Grazie. Grazie a voi. Sperando di poterne parlare in futuro con una speranza diversa. Grazie. Grazie a voi.